Andiamo da una bella vittoria fuori casa contro la Stella Azzurra, incontriamo domani la capolista, quindi mi auguro che sia una partita bella dal punto di vista sportivo, una partita dove sinceramente incontrando la prima della classe è una partita con tantissimi stimoli, la giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e come ho detto anche mercoledì dopo la partita con la Stella, mi auguro veramente che Palazzetto possa essere pieno di tifosi ma giusto perché è giusto onorare la prima della classe, quindi mi aspetto comunque che la gente venga a vederci ma soprattutto venga a incitare i ragazzi che sinceramente stanno facendo grossi passi in avanti, si stanno impegnando tantissimo, stanno migliorando tantissimo e mi auguro che anche domani contro Palestrina si possa vedere una buona prestazione da parte dei miei. Stiamo abbastanza bene, ancora con i suoi tacciacchi come Peppe De Leo che sta ancora fuori, sta recuperando piano piano, però vediamo, oggi facciamo una risonanza di controllo per vedere se sta andando tutto bene, ci auguriamo di sì e quindi aspettiamo altro po' per vederlo in campo. Di Palestrina c'è poco da dire, sinceramente è una squadra costruita per risalto di qualità, quindi ha giocatori importanti e molto forti di categoria come Rossi, Rischia, Mastroianni, Bartolozzi, Tiam, quindi sinceramente non voglio assolutamente mancare di rispetto, non nominare Mennella che è un altro ragazzo molto interessante che quando stavamo per formare la squadra in Serie A quest'estate l'avevamo preso in considerazione, voleva fare uno steggio con noi, quindi comunque un giocatore, nonostante sia giovane, un 99 però, di grosse qualità. C'è poco da dire in una partita del genere, noi non abbiamo nessuna pressione addosso perché è inutile nasconderci, non è che affrontiamo una squadra come di la nostra fascia, però mi auguro di vedere i progressi della nostra squadra, mi auguro che i ragazzi mettono il cuore in campo come hanno fatto con la Stella, che deve essere questa la nostra arma in più domani per cercare di affrontare più o meno la pari palestrina e poi ci prepareremo per il derby di mercoledì, ma pensiamo a domani che è una partita importante, ma una partita comunque da disputare con una tranquillità assoluta perché, ripeto, non abbiamo niente da perdere, una partita da affrontare a viso aperto senza paura, mi auguro tanto di non ripetere la prestazione dell'andata che non c'è stata partita da parte nostra, però la squadra è cresciuta, è cambiata molto in questi mesi, quindi sono anche io un attimo curioso di vedere come possiamo affrontare i primi della classe con l'attuale rossa e con l'attuale gioco che facciamo. Sì, io ho sempre detto che affinché questa squadra possa salvarsi c'è bisogno che... tutta la squadra, tutti i roster faccia qualcosa in più, non soltanto i Segno ma soprattutto gli Ander perché stanno crescendo tanto, ripeto, si stanno migliorando, si stanno impegnando, però ora è anche il momento che loro diano qualcosa in più anche a livello di responsabilità e sinceramente piano piano Cherubini, lo stesso Bianco, ma lo stesso Vlada che sta crescendo giorno per giorno, Giovinella che è giusto nominare in questo momento perché è un giocatore importante di questa squadra in attesa che arrivi anche Peppe, però comunque un giocatore che si sta iniziando a prendere responsabilità, stanno mettendo l'anima che è la cosa che mi fa stare tranquillo un po' in questo periodo un po' particolare, come dire, però c'è bisogno della chimica di tutti, c'è bisogno che tutti facciano qualcosa in più. Io mi auguro di riuscire a... ecco, forse domani dovrebbe essere un'occasione importante per tutti, riuscire a far giocare tutti e 12 giocatori che convoquerò, ma se così non dovesse succedere, la cosa che mi è piaciuto è mercoledì per esempio, che la panchina è stata molto attiva anche nell'incitare i compagni, anche nell'aiutarsi con una pacca sulla spalla, con un applauso in più. E queste cose sono importanti, io l'ho fatto sempre notare ai miei ragazzi anche durante i video, proprio perché è importante che loro si sentano partecipi sempre, anche chi per motivi di poco spazio gioca un po' di meno, si deve sentire responsabile, ma soprattutto orgogliosi di far parte di questa squadra. Quindi io ecco, mi auguro questo, che domani ci sia una prova collettiva da parte di tutti, non soltanto chi sta in mezzo a camo, ma soprattutto di tutta la squadra. Ma credo di sì, me lo auguro, perché comunque abbiamo affrontato, una squadra che sinceramente è giovane, a differenza di molte squadre di Serie B che incontriamo giocatori di grandissima esperienza, però abbiamo incontrato anche una squadra che ha un'energia diversa dalle altre squadre. Avendola affrontata a viso aperto e avendo avuto la possibilità di poter resistere per 40 minuti, questo fa capire che Iander, Isegno e tutta la squadra ha avuto una forza mentale, una durezza fisica e una durezza difensiva alta. Perché se ricordate un pochino la partita, noi siamo passati a prendere 24 punti in un quarto, a poi farne fare 15 e 16 negli altri quarti. Siamo passati nel primo tempo a chiudere i due quarti, 28 a 10 come rimbalzi totali nella partita, abbiamo finito 52 pari. Quindi sai, è stato veramente uno sforzo da parte di tutti, non soltanto dei lunghi, ma veramente tutti hanno partecipato alla partita e si è fatta una grande partita, si è vinto una partita importante. E mi auguro che anche domani ci sia questa collettività da parte di tutti che possono mettere un mattoncino ognuno di loro per fare in modo che si possa disputare la partita, non voglio dire qualcosa in più. A finire con la Stela Azzurra hai fatto riferimento a quello che dovrebbe essere anche il rapporto del pubblico, non soltanto di origine infanzia, però è arrivata anche l'iniziativa della società che ha bastato 3 euro, Certo, questo è ancora di più lo sforzo che la società sta facendo per questa squadra, penso veramente adesso non ci siano nessun alibi per non far venire gente a palazzetto, obietti popolarissimi, al mio appello, sinceramente è stata una richiesta, parlando anche con i tifosi mutati a Roma, di fare questa iniziativa e la società subito accolta e subito si è messa in moto per fare in modo che si potrebbero abbassare i biglietti. Io veramente mi auguro che, non prendendo un palazzetto pieno, che sia chiaro, però mi auguro che se nelle ultime partite ho visto delle tribune abbastanza vuote, mi auguro che un po' più di gente possa venire, eppure perché è un sabato pomeriggio, qualcuno va a fare lo shopping, qualcuno può venire a palazzetto a vedersi in uno spettacolo di basket, comunque siamo la squadra della città, è bello anche che ci sia qualcosa in più anche da parte delle tribune, oltre che della curva, che sinceramente sono fantastici, ci seguono davunque, ci hanno sopportato e supportati in ogni momento, e quindi credo che sia giusto anche da parte degli altri settori fare un passo in più. La seconda partita in tre giorni, poi arriverà Salerno mercoledì, da quel punto di vista di più come dire a girare la squadra? Stiamo abbastanza bene, ripeto, non siamo una squadra lunghissima e quindi non ci possiamo permettere rotazioni molto ampie, però stiamo cercando di recuperare un pochino lo sforzo, dire abbiamo fatto un lavoro esclusivamente di tiro per scaricare un po' la partita, oggi faremo allenamento forte, faremo un due ore e mezzo di allenamento per prepararci per domani, non è sicuramente facile per una squadra come la nostra, però i ragazzi ormai hanno incamerato gran parte di preparazione, quindi riescono anche un attimo a gestire questi ritmi. vediamo, ecco, vediamo domani prima che cosa ci dice il campo, poi valuteremo domenica la preparazione in vista di mercoledì. Ci credi che il terzo successo non è un'altra? Ma devo crederci, devo crederci perché sarei sciocca a non farlo, da allenatore devo sempre pensare di vincere tre partite, i miei giocatori devono sempre pensare di entrare in campo a vincere tre partite, io l'ho detto la prima giornata di ritorno, che noi in ogni partita l'abbiamo pensato come fosse una finale scudetto, quindi entrare in campo con grinda, cuore, rabbia, agonistica, per cercare di affrontare chiunque venga qua o chiunque squadra che dovremo incontrare fuori casa con la stessa mentalità, non pensare che sia Stelle Azzurro o Palestrina, ecco, per citare le ultime due partite, le ultime due squadre che incontreremo, ma tutti hanno lo stesso valore, e per noi se ci vogliamo salvare è l'unico modo che possiamo fare, giocare alla morte, a farmi passare questo termine, per 40 minuti, poi alla fine vedremo il tabellone. Quanto l'hai risperato per questa vittoria esterna e quanto questa squadra l'ha meritato? Io l'ho desiderato tanto, ma per loro, perché sinceramente sto con loro tutti i giorni e vedo quello che stanno facendo in mezzo a campo, come si allenano, come si impegnano, e l'ho detto in conferenza, per partire con la Stella, che stavo tranquillo, che hanno fatto una settimana di ottimo lavoro, nonostante eravamo veramente contati in dieci, però mi sentivo tranquillo, perché hanno lavorato bene, e quando si lavora bene i frutti, bene o male, arrivano anche durante la partita. Quindi è una cosa che loro hanno voluto, che tutti quanti noi abbiamo voluto, contentissimi di aver fatto la prima vittoria fuori casa, però non ci dobbiamo accontentare, ecco, l'archiviamo subito, pensiamo a Palestrina, pensiamo alle prossime, perché la strada purtroppo è ancora lunga, le altre squadre, come ben sapete, si stanno rinforzando molto, lo stesso Cassini, Cassino che ha vinto l'ultima partita, ora ha preso anche Grilli, che è il tiratore di Corato, non so se ve lo ricordate, e quindi comunque, diciamo, sotto si stanno rinforzando, come pure le squadre che stanno lottando per il playoff. Noi siamo ancora in questa condizione, non so per quanto tempo, a questo punto, come dire, ci interessa poco, perché è inutile parlare di quello che potrebbe succedere, sappiamo benissimo com'è la storia, andiamo avanti, pensiamo a migliorare, pensiamo, ripeto, a affrontare ogni partita come se fosse una finale scoletta. Grazie.